buon pomeriggio siamo al roma i fidelity oggi è il sabato 27 novembre sono in compagnia con ferdinando iervolino il ceo di cinema sound di napoli anche se voi siete a casa nuovo di napoli di napoli è un punto vendita che giovanissimo in realtà però tu sei da da più di vent'anni forse 20 anni sette ore ci facevamo tanto tempo avevi un'azienda con cui abbiamo fatto anche degli eventi assolutamente e hai competenze non solo nell'audio ma anche nel video sono partito con proprio con importare un processore video quindi sono partito più del video e poi la passione per l'audio ma spinto pure sul due canali puro diciamo così invece qui siamo a roma parliamo di quello che sta succedendo qui abbiamo visto già ieri sera abbiamo fatto un'incursione noi speravamo di beccarvi con le mani della marmellata invece era praticamente tutto proprio quasi tutto perfetto questa piccola piccolissimo tavolino che vediamo qui discreto che occupa quasi metà della stanza bellissimo con con una novità diciamo non novità in assoluto per quanto riguarda il tipo di installazione però soprattutto per fiere di questo settore la novità della correzione dell'acustica ambientale digitale che è molto particolare però quella che è proprio di voi diciamo è nato il tutto proprio da milano della della fiera di milano dove la la saletta che avevamo era un po critica come correzione acustica nel senso come acustica portare pannelli e quant'altro non era facile fino a milano come logistica tutti ci facevano i complimenti l'impianto tutto suona bene però la stanza purtroppo penalizza quindi proprio nel viaggio di ritorno sapendo che il costruttore di dei diffusori audi maxim aveva a catalogo un processore chiamato rap 1 proprio un correttore di acustica ambientale mi hanno detto perché no facciamo roma e pure se la saletta è piccola proviamo ad aggiustare un po il tiro sull'acustica questo diciamo è stato l'incipit che poi ci ha portato a ordinare il prodotto e a provarlo in effetti funziona cioè per quello che abbiamo visto assolutamente dire possiamo dire senza senza di smentita voglio dire cioè c'è anche delle ottime dimostrazioni con e senza il dsp attivato che almeno per quanto mi riguarda ho visto che le prestazioni sono eccellenti soprattutto in gamma bassa senza asciugare eccessivamente il messaggio musicale perché questo quello di cui hanno paura molti audiofali soprattutto gli audiofili soprattutto quelli più talebani ed è un po questo che viene guardato con sospetto l'inserimento di un ulteriore dsp all'interno del segnale digitale quando invece siamo attenti ai particolari più minore e invece la sorpresa è che non cambia sia la timbrica perché alcuni hanno paura c'è il dac a valvole c'è il pre a valvole magari mi cambia la timbrica oppure mi asciuga troppo il basso poi magari mi toglie la scena invece tutto questo non accade va a intervenire solo dove serve la timbrica non cambia perché lo vediamo facendo il true velocemente diciamo perché uno può far passare comunque il il segnale attraverso lasciandolo però piatto il segnale viene il costruttore il costruttore che ha impiegato due anni per sviluppare il prodotto ha fatto dei testi con amplificatori sorgenti di un certo livello proprio per vedere che il segnale non fosse alterato tra il true e il processamento che rimanesse solo praticamente la parte da correggere ma senza andare a modificare poi la diciamo la parte di proprio del del timbro della degli apparecchi questo diciamo il lavoro che è stato fatto in effetti succede questo senza abbassamenti di dinamica cambiamenti di timbrica è stata una sorpresa devo dire la verità visto le persone siamo passati a vedere ci hanno detto si è sparsa già un po la voce andate in quella saletta perché c'è quel coso che sembra funzionare sembra funzionare ad un prezzo che poi vedendo quali sono gli dsp stereo così evoluti e non è neanche elevatissimo è un prezzo giustissimo parliamo di circa 6 di listino 6.000 di listino che comunque è inserito all'interno di un impianto importante importante si porta se certo importante e però c'è anche un'altra cosa da raccontare che ho saputo recentissimamente che il prossimo weekend in particolare il venerdì se non sbaglio di tre no è il sabato 4 il sabato 4 dicembre quindi il prossimo weekend che succede saremo di nuovo a roma malgrado diciamo la fiera di oggi saremo di nuovo qua all'hotel Savoy via veneto in congiunzione che hanno un unico suono che diciamo è un copartner loro per la parte dei prodotti che producono c'è tavoli antisismici cavi noi saremo invece con le apparecchiatori marchi importati e ci saranno proprio i costruttori di ogni brand quindi un rappresentante di ogni brand che importiamo da jc cora da lampizzator ci sarà lui proprio ci sarà canor con il progettista che presenterà per la prima volta al prototipo di pre finale che stanno facendo monoblocco due finali mono e il pre tutti i valvolari avremo il reference giradischi portato proprio da da sicora e sarà tutto messo sulle basi sul tavolino che abbiamo visto poi bellissimo molto bello di unico suono e chi vuole venire qui allora diciamo si è su prenotazione ovviamente non è una fiera aperta al pubblico e su prenotazione ad invito ci saranno ovviamente giornalisti come mi chiediamo penso più altre testate praticamente tutte le testate nazionali ci saranno i costruttori ci sarà una selezione di utenti che vorranno intervenire operatori del settore quindi ci faranno sapere chi vuole aderire noi li metteremo in lista tutto qui senti un'ottima cosa perché qui abbiamo parlato ovviamente solo di due canali di stereo quello che portate in fiera in realtà qui in fiera c'è un vostro prodotto anche che invece viene certo che è utilizzato per esempio nella saletta sotto almeno uno si è da garman ma da garman che il famigerato ricordiamo il famigerato ipuc che tra i cloni tra virgolette del del lettore blu ray 4k dell'utero universale oppo è quello quello un po più spinto su sul versante diciamo hardware perché è stato un buon un prendere un lettore oppo come dalla parte software di gestione ma andando poi a fare delle modifiche su proprio sulla parte diciamo dell'elettronica dove sul modello pro è stato inserito proprio un clock o cx o quindi un clock detto atomico che fa proprio la parte di di clock del segnale prima di andare poi in uscita hdmi quindi tutto nel dominio digitale questo sembra aver portato comunque dei risultati sia sull'audio che sul video ottimali benissimo ti ringrazio Ferdinando e a questo punto ci vediamo il prossimo weekend ci vediamo tra una settimana praticamente grazie ancora grazie a tutti voi grazie a tutti grazie a tutti